ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video allora dal titolo potrete già capire qualcosa cosa è successo purtroppo non ho basta al nostro collega youtuber nonno bastardo gli hanno chiuso il canale youtube gli ha mandato da quello che ho visto nel video gli ha mandato 35 contesto gli ha mandato 35 contestazioni di copertine dove c'era presumibilmente credo da aver sentito il marchio di mediaset e quindi gli ha mandato gli ha mandato 35 strike quindi il canale è chiuso perché con youtube con tre strike il canale è chiuso però cosa è successo lui il canale ce l'ha ancora cosa è successo che lui praticamente dovrebbe contattare mediaset e chiedere appunto risolversela con mediaset per vedere se gli possono risparmiare questi 35 strike ma ovviamente si sa che le televisioni non ti perdonano e neanche diciamo ti puoi averci contatto sostanzialmente ma perché non è tanto non è mediaset che manda la segnalazione praticamente un problema di algoritmo di youtube questo youtube da diversi anni come si dice c'è questo algoritmo di youtube che negli ultimi anni è diventato sempre più potente sempre più intelligente che riesce comunque a capire quasi come un cervello umano in alcuni casi anche di più quali video sono soggetti a copyright in maniera così efficiente e precisa praticamente che poi copre tutto l'arco mondiale proprio cioè se tu che ne so pure dall'australia carichi un video dove c'è il marco di mediaset automaticamente ti blocca youtube youtube ti blocca il video e se ti manda la segnalazione per copyright addirittura addirittura io una volta ho provato a caricare un video dove me ne sono reso conto in un secondo momento che c'era il marchio mi sembra che era non di mediaset un'altra rete televisiva non ricordo quale appena l'ho caricato subito bloccato praticamente per violazione di norme per violazione di norme del copyright fondamentalmente però non mi hanno mandato la semplice allora non mi hanno mandato la segnalazione cioè non me l'hanno c'è appena è caricato subito questo video è stato rimosso però senza segnalare non me l'ha fatto proprio caricare c'è appena ti viene caricato subito viene bloccato ma anche durante l'analisi è diventato talmente potente questo software che gli anche durante il caricamento ti si può bloccare per violazione delle norme del copyright fondamentalmente probabilmente nel caso di nonno bastardo magari youtube il software di youtube ci ha messo molto più tempo perché comunque allora vedere un video no vedere un video dove c'è il marco il marchio di tipo di mediaset dunque di una rete televisiva è molto più facile una copertina di solito come si dice da devi prendere analizzare ci vuole un po più di tempo purtroppo infatti è successo non abbassato che gli hanno mandato evidentemente comunque magari sicuramente avrà magari giusto delle segnalazioni da qualcuno che poi questo qualcuno magari tramite youtube software è arrivata la cosa direttamente a mediaset e mediaset magari gli avrà mandato avrà risposto a youtube con questo software a questo software che poi ha bloccato e quei 35 video dove presumibilmente quelle 35 copertine perché su youtube tu c'è l'immagine di copertina no per esempio pubblico il video questo video lo pubblicherò dove ci sarà dove mostrerò che c'ho due palloni così ecco quindi magari assomando di vedere quei 35 le 35 copertine no che magari si vede al marco di mediaset e gli hanno mandato lo strike cosa è successo è successo che una volta luca mastrangelo un collega scorretto e disonesto veramente una persona brutta dentro che non voglio fare il nome per non dargli non dargli fama per non dargli fama gli ha mandato tre strike che per violazione di norme per violazione del copyright di contenuti che neanche appartenevano a quel personaggio cosa è successo che youtube gli ha mandato le tre segnalazioni a luca mastrangelo però non gli ha chiuso subito il canale mi sembra gli ha dato 15 giorni di tempo 1 2 settimane o 10 o 15 giorni di tempo ti da almeno 10 giorni sicuro per contattare la persona in questo caso perché era una persona fisica praticamente che gli ha mandato le segnalazioni aveva 10 15 giorni di tempo per contattare questa persona fisica e fargli e diciamo cercare di risolvere questa cosa per cercare di fargli di rimuovere il copyright questa persona ovviamente siccome era molto invidiosa di luca mastrangelo del suo grande successo perché soltanto gli invidiosi fanno quello che ha fatto questa persona gli ha detto di no fondamentalmente dicono che gli ha chiesto dei soldi tutto quanto ma luca mastrangelo non è uno che diciamo cede a presunte e presunte estorsioni tutto quanto dico presunte presunte perché dicono che gli hanno messo gli hanno chiesto dei soldi tutto quanto lui gli ha chiesto dei soldi poi non si sa come è andato a finire comunque alla fine della fiera questa persona non gli ha tolto non gli ha tolto i tre strike e luca mastrangelo si è ritrovato col canale chiuso a data a destinarsi prefissato da youtube poi lui si è riaperto un canale ha rifatto il triplo degli iscritti tutto quanto è ritornato in cima in cima alla catena dei youtuber più conosciuti più famosi e più conosciuti e più rispettati d'italia comunque detto questo quando ti arriva lo strike anche magari da una rete televisiva sì tu c'hai dei giorni sindacali tra virgolette giorni sindacali per contattare chi ti ha mandato gli strike e cercare di risolvere la cosa nonno bastardo teoricamente dovrebbe perdere tempo a contattare mediaset per cercare di risolvere questo problema ma vi ripeto le televisioni sono bastarde infami che non non perdonano ti mandano gli strike che non ti cagano che giustamente quelle sono quelle che hanno milioni al giorno di ascoltatori e quindi questo è quanto ma purtroppo vi ripeto il problema del copyright è che l'algoritmo di youtube è diventato talmente potente talmente forte che ormai proprio non non c'è non qualunque cosa tu pubblico oppure se tu pubblichi un video dove si vede questa bottiglia d'acqua con scritto qua pam cioè primo non te lo fanno monetizzare cioè se è pulito non te lo fanno monetizzare punto secondo se veramente la fama il sedere otto quanto potrebbe mandarmi per dirvi la segnalazione perché qua si vede praticamente il marchio della dell'acqua perché un'acqua industriale tutto quanto io dovrei chiedere il permesso alla pam teoricamente dovrei chiedere permesso alla pam di fare un video dove sponsorito quest'acqua l'ho fatto per vedere proprio per mezzo secondo quindi non la sto sponsorizzando anche se vi dico che è una buona acqua ovviamente alla pam questa pam cassata è una buonissima acqua ve la consiglio di comprarvela detto ciò purtroppo ragazzi nel senso non ormai youtube è diventato cioè è diventato un mondo sempre meno vivibile fondamentalmente per chi vuole fare successo è veramente veramente molto 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 dura ma è diventata ormai una piattaforma purtroppo sotto alcuni aspetti molto infame molto infame che veramente spezza le gambe a tutti quelli che vogliono emergere a tutti quelli che vogliono comunque mostrare contenuti interessanti tutto quanto magari ok prendendo anche in prestito che ne so video spezzoni a tv e cose tutto quanto ma non è che tu gli stai ruba fama e cose tutto quanto soltanto che youtube ormai sta diventando così ma per questo comunque molti alcuni youtuber famosi tipo zepp89 se ne sono andati a fanculo ma non solo non da youtube in generale ma da youtube italia ma da youtube in generale e fanno video su twitch perché comunque sta diventando sempre sempre più invivibile come mondo e tutti molti sono spostati a tweet a twitch sia twitch che comunque insomma puoi fare live con comunque c'è le limitazioni sono molto più inferiori e dicono che ti può pagare di più anche se l'utenza è molto meno è molto inferiore rispetto a quella su youtube naturalmente questo è quanto ma qui posso dire nonno bastardo caro collega io da collega ti esprimo veramente la mia più grande solidarietà io spero che il tuo canale non venga chiuso anche se non sarà così purtroppo e spero che tu lo possa risolvere questo problema il più presto possibile questo è quanto detto ciò ragazzi niente volevo soltanto dirvi questo io intanto come vedete sto continuando a fare video sul calcio poi sto inaugurando piano piano i video sul diritto che stanno ricominciando con contenuti ovviamente originale tutto quanto è niente ragazzi sicuro soltanto di questo caro nonno bastardo ti do la mia piena solidarietà e spero che ci potremo sentire presto con questo ragazzi fate girare questo video condividete tutti i canali iscrivetevi al canale rimanete cliccate la campanella per rimanere aggiornati e noi ci senti e noi ci sentiremo prossimamente ciao a tutti ragazzi